Salve amici benvenuti in un nuovo video, io sono Peppe Sena e oggi vi voglio parlare di una cosa seria, senza fare nome, ci sono dei miei amici che loro si definiscono tifosi napoletani. Ora dicono, voi che definite tifosi napoletani, perché poi andate a vedere le partite dell'Inter oppure del Milan, oppure, peggio ancora, la cosa che ho appunto a vedere, che ieri, invece di farvi le foto dietro allo spogliato olio del Napoli, se vi fate le foto dietro allo spogliato olio del Milan, ma non siete tifosi del Napoli, perché vi spacciate tifosi del Napoli? Io questo non lo so, voi siete proprio una non ho parole, ok? Con questo io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!